Due gemelli diversi, van ma totalmente opposti, 5,41 m, 6,36 m l'altro, sì, sempre mondo van ma con caratteristiche di letti, di bagni e di vivibilità totalmente diversi. Due top brand, uno made in POSL con bagno centrale R, l'altro, chi la costruisce POSL, Detlef, 6,36 m, un esterno grigio da una parte, Lanzarote dall'altra. Insomma, davvero non può mancare il bianco, il nero, l'alto, il basso, l'amore, l'odio, 5,40 m contro 6,36 m. Benvenuti a tutti, io sono Luca del Centro Caravans Barassi, loro i van, 5,41 m e 6,36 m, andiamo a studiarli insieme. Mi raccomando, supportate il canale del Centro Caravans Barassi, un semplice like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e vi ricordo che siamo presenti su tutti i social, tutte le piattaforme, specialmente Instagram dove prima registriamo tutte le cose che avvengono all'interno del nostro canale YouTube. E come sempre dico io, pronti? Diciamolo insieme, partiamo! Grazie a tutti! 5,40 m, 6,36 m, van, gemelli, diversi. Ma con caratteristiche di vendita anche diverse. Il 5,41 m, fino a ora, quindi tuttora anzi oserei dire, è il veicolo più richiesto in assoluto. Diciamo che è quello che ci dà probabilmente anche più l'idea della libertà, della voglia di partire, passo corto. Il 6,36 m, devo essere sincero, sono meno le aziende che escono in maniera più, come dire, aggressiva su questa dimensione, ma chi lo fa, lo fa veramente bene. E Detlef, nello specifico, veicolo che andiamo insieme a vedere a confronto del 5,41, quindi andiamo a vedere appunto le varie differenze, una su tutti in letto, lo fa davvero in maniera molto interessante. Ricordiamo intanto le due aziende, POSL oggi lo vediamo in una versione leggermente diversa. Vi ricordo che POSL fa POSL appunto con la ROTCAMP che può essere R, ROTCAR invece è una versione più economica, sempre della gamma POSL che viene sempre costruita in linea D, quindi negli stabilimenti d'Etre, e poi GLOBECAR che è una, per tanti, una gamma più alta, insomma in realtà il layout è totalmente identico, non cambia nulla, cambia però la colorazione del mobile e alcuni dettagli. Io lo reputo un prodotto molto interessante, noi avendo la possibilità di vendere POSL abbiamo la possibilità anche di vendere GLOBECAR. Diciamo che per il mercato italiano POSL è talmente radicata nella testa e nel cuore di tutti noi, che insomma GLOBECAR sicuramente ha meno unità disponibili. E poi Lanzarote colore esterno, Detlefs invece il brand. Partiamo dal 540, tetto SCA, SkyUp tra l'altro è un nostro fornitore che salutiamo, mio carissimo amico Daniele. Tetti SkyUp, giusto una precisazione, approfitto dell'errore, sono tetti che possono essere montati in aftermarket o attenzione alcuni prendono proprio anche il veicolo in pronta consegna senza tetto per poi montare SkyUp. Noi personalmente ne abbiamo già montati parecchi, ci troviamo molto bene, è un'ottima alternativa se trovate un veicolo in pronta consegna senza tetto. Qui però torno indietro, tetto SCA, classico tetto che viene montato più o meno da tutto il gruppo Imer. Ora in realtà nell'ultimo annetto Imer ha un po' modificato la sua scelta, nel senso che anche sul tetto viene prodotto da un'altra azienda e viene prodotto anche poi in realtà in maniera diversa. Al momento invece POSL conferma il tetto con il suo bel oblo 40x40 classico, insomma come sempre POSL un'ottima qualità prezzo. Partiamo dalla parte dietro che è forse quella più particolare, quindi abbiamo il letto traverso per quanto riguarda il 541 e non si può assolutamente fare differenza. Io direi di dividere gli ambienti per andare da una parte all'altra appunto dalla zona letto, zona bagno, quindi andiamo a vederli un po' insieme. Quindi oggi adesso parliamo appunto del letto con un'ottima dimensione a differenza degli altri 541 in quanto il bagno, e approfitto appunto per attaccarmi al discorso, non si sviluppa in lunghezza come più o meno tutti i veicoli. E specialmente Detlef, dopo vediamo proprio il veicolo per eccellenza che presenta il bagno in lunghezza ma in larghezza, quindi sfrutta la larghezza del van per poter fare il bagno contate che si trova anche nella zona cucina, quindi ovviamente questo un po' lo va a perdere. Ma cosa fa per togliere questo problema? Non viene posizionato il frigorifero nella parte dove il bagno va a chiudere, ma viene posizionato il frigorifero nella parte avanti, frigo a compressore, apribile sia dalla parte interna che dalla parte esterna. Quindi cosa succede? Grazie a questo bagno lo sviluppo anche del letto cambia, poi andremo a vedere che in realtà cambierà anche lo sviluppo della dinetta in quanto è più grande. Quindi abbiamo un'apertura del bagno con due parti ammovibili che si vanno a chiudere, io la provo anche internamente, andiamo a chiudere entrambe le parti per far sì che succedano due cose. La prima è che io vado a isolare totalmente la zona appunto del van stesso, quindi io ho un ambiente molto importante davanti a me, ma nello stesso tempo chi si trova o nella zona letto o nella zona living rimane separato. Vantaggi? Sicuramente un bagno enorme per il 541, l'altro vantaggio è che si può dividere le parti, un po' tipo, l'ho detto nella scorsa recensione sul Duwin R, un po' tipo semi-integrale, cioè voglio dividere la parte di qua, chiudo solo questa porta, perché in realtà poi io decido quale delle due porte parzializzare. Altro vantaggio, finestra che è possibile aprire e portare fuori per farci la nostra doccia. È possibile anche magari su altri modelli, però diciamo che nello specifico questo modello, la gamma R, anche seduti all'interno del WC, vedete, davanti ho tantissimo spazio. Sotto di noi, perché sotto, abbiamo questa pedana in legno che durante la doccia la togliamo, abbiamo il materiale in ABS, quindi possiamo bagnare tutto e come vedete un vantaggio ancora è che non è presente la tendina, quindi ovviamente noi possiamo totalmente utilizzare il reparto doccia ma senza tendina. Vi ho anche aperto questa situazione, che era un po' quello che vi spiegavo poc'anzi. La zona bagno-letto può anche essere volendo suddivisa in questa maniera, ma nello stesso tempo si può ancora risuddividere, chiudere e semplicemente andare a parzializzare la porta solo laterale. Quindi insomma davvero un qualcosa di spettacolare. Binario elettrificato, quindi queste luci della Dometic, è possibile poi averle anche con la presa 220, noi possiamo inserirle e girarle dove vogliamo e dove vogliamo troviamo appunto il punto luce, scusate il gioco di parola. Corona di pensili, apribile tutta quanta, all'interno ovviamente abbiamo più spazio rispetto a tutti gli altri veicoli, come vedete sempre poi il rigiro dell'aria, ma questo l'abbiamo visto proprio neanche nell'ultimissima recensione. Perché un van così amato, così cercato, specialmente nel 540? Due motivi, su tutti ma ce ne sono tantissimi, corona di pensili nella parte posteriore e nella zona davanti cappelliera. Questo è considerato il veicolo perfetto per tutti gli utilizzatori veri e amanti del van, un po' nella sua maniera anche più rudene, quella di avere più spazio rispetto magari a uno skyroof che mette tantissima luce interna, ma toglie appunto dello spazio. Dada la luce naturale, bellissima, tutto quello che volete, ma toglie effettivamente dell'opportunità di caricare estivaggio. Cosa succede in questa maniera? Intanto pulisco un attimo qua, ok. Succede che i letti da attraverso passano gemelli, quindi la differenza, poi lo faccio vedere senza il kit terzo posto perché ci tenevo a farvelo vedere montato, ma torno a ripetere, inserirò poi o in questo video nel successivo delle foto riguardanti appunto il veicolo che stiamo facendo la recensione. Questa tavola di legno, poi ritorniamo nella parte letto e bagno, viene inserita nella dinette, sotto per la precisione, per far sì che il tavolo non si vada a imbarcare, e viene inserito appunto anche questo materasso, che è suddiviso 2 a libro, quindi occupa meno spazio, però ovviamente la differenza che si ha sul veicolo 5,40 è quella che in 5,41 m ne possiamo avere il tetto a soffietto. Andiamo a perdere l'oblò, quello posteriore, perché il tetto è lungo per poter ospitare, perché si dorme in lunghezza, e invece nel 6,36 m lo riusciamo a recuperare. Qui, esempio, è possibile montare il tetto SkyUp. Cosa succede quindi? Che ovviamente parliamo di due veicoli totalmente diversi, sotto un certo punto di vista, per pochi centimetri in realtà. Dove va proprio ad avere il cambiamento radicale, un 5,40 m da un 6,36 m? Nel letto, quindi dopo lo vediamo finito, ma le dimensioni del letto sono di 2 m, quindi abbiamo due letti singoli, uniti, come vedete, perché poi in realtà questi letti sono uniti, quindi si possono fare singolarmente, ma nello stesso tempo abbiamo l'opportunità di poter salire e scendere, senza dover scavalcare, come nel caso di un letto attraverso, per forza la persona. Corona di pensili posteriore, effetto più legno, effetto più baita, binario elettrificato, invece, è presente anche su Detleps. Queste parti servono sia nel lato destro che nel lato sinistro, appunto perché questi letti poi, in realtà, è possibile alzarli e andarli a incastrare, maschio o femmina, insomma, classico laccetto, appunto per poter avere all'interno moltissimo stivaggio, ma dopo andiamo a fare anche la differenza dei garage, così andiamo a inserire il kit terzo posto letto nel garage, vediamo l'ampiezza del letto, ma andiamo anche sul 5,41, prima però abbiamo detto che facciamo zona notte e bagno. Questo bagno, invece, come vi spiegavo poc'anzi, è totalmente diverso. Prima andavamo a sviluppo di larghezza, ora andiamo a sviluppo di lunghezza. Premetto che in commercio è l'unica azienda che presenta questo tipo di bagno, premetto che noi abbiamo già consegnato vari 600 e vari 640 e il feedback della gente è davvero molto elevato. Anche qui andiamo a escludere la porta, quindi vantaggio numero uno, non ho la persona che mi esce nel corridoio, però come vedete non abbiamo nemmeno, in realtà, poi neanche qui il discorso del frigorifero, perché abbiamo un'apertura sempre anteriore in un unico sviluppo, quindi solo da interno verso esterno, poi in realtà il frigorifero si apre così tanto che a 180 gradi, anche da fuori è possibile. Una cucina lunga, perché come sempre quando si ha uno sviluppo di frigorifero intestata, ovviamente la cucina va a sfruttare più lungo, si va a perdere, però ricordatevi sempre una parte che poi in realtà questa è dove si trova il frigorifero. Torniamo nel nostro amato bagno, anche qui abbiamo la finestra, anche qui abbiamo il miscelatore che può uscire, anche qui abbiamo una finestra che comunque è opaca e nonostante ciò viene montato un oscurante e zanzariera della Remis. Trasla il vetro, quindi è possibile andare a creare il nostro spazio in base a come noi lo desideriamo, super e molto interessante invece il discorso di costruzione, come vedete questa gomma serve appunto per isolare sia termicamente, ma anche acusticamente tutto il discorso del van. I van hanno fatto veramente un passo in avanti enorme, io li tratto da quasi 10 anni ormai, poco meno in realtà, però veramente hanno fatto un salto enorme, diciamo che anche questa concorrenza, tutta questa concorrenza, ha dovuto per forza far sì che le aziende si specializzino appunto chi nella qualità, chi magari nella qualità prezzo e chi purtroppo in nessuno delle due. In questo caso Detlef scostruisce van da 30 anni e lo fa per un'altra azienda, ora invece negli ultimi due anni ha iniziato a autoprodurseli anche per lei. Porta rotolo cartigenica con la linguetta che poi in realtà esce, quindi come vedete anche queste piccole idee che si può alzare, abbassare, perché magari abbiamo un liquido VC o magari abbiamo qualcosa interno dove lo spazio di altezza è maggiore, noi possiamo alzare in base a quello che andiamo a richiedere noi. Il VC si può girare, quindi possiamo cercare la nostra posizione, dietro andiamo a vedere, non so se si riesce a vedere, che abbiamo la bocchetta dell'aria calda, quindi anche il VC viene tutto riscaldato. Internamente abbiamo la tendina che come vedete segue il percorso, quindi va a chiudere tutto lo spazio interno, io mi chiudo internamente e vabbè, in seduta è probabilmente anche quasi più comodo di tutti i bagni, perché ricordiamo che, faccio un esempio, chi ha la parete duplex ovviamente va a ridurre, perché questa parete deve avere delle cerniere a un giro, quindi ovviamente si va a ridurre, va a guadagnare che non è la tendina, va a guadagnare sicuramente in determinate cose e va a perdere un'altra. Qui davanti a noi abbiamo tantissimo spazio, come sempre mi sono provato il mio tappetino per fare la prova, però qui abbiamo una tendina che in realtà non dà alcun fastidio a noi, perché viene, noi siamo a metà di questa, non si poteva uscire di più nel corridoio perché avremmo tolto troppo spazio di passaggio, perché comunque non dimentichiamoci che all'uscita del bagno noi troviamo un corridoio che divide zona notte da zona giorno, quindi insomma non si poteva fare assolutamente altro, quindi come vedete questo è lo spazio. Detleps ha moltissimo passaggio interno, non è come tanti vanno che vanno a chiudere nella parte posteriore, poi dove si va a ricavare anche come vedete delle zone, delle aperture, sia nel gradino basso, sia nel gradino più alto, quindi complimenti a questa splendida azienda. Entrambe le finestre dietro sono apribili, come tutte le altre finestre, tutti con oscuranti remis, sia nella parte di oscurazione sia nella parte di zanzariera. Giusto una precisazione nella zona garage, perché Detleps è veramente diversa e Globe Trade da tutte le aziende, intanto continuiamo con una piccola recessione nella parte posteriore, S7, eccola qui la vera differenza. Detleps ha la possibilità, il Globe Trail, di avere, si può togliere in realtà, però a loro la inseriscono, di avere questa apertura che si può portare in avanti, adesso provo a farlo io con una mano, anzi ci vediamo fra un minuto così vi faccio trovare il kit terzo posto letto interno e l'apertura, ma prima ve la spiego, portando in avanti questa linguetta è possibile portare questa maniglia appunto verso di me e dentro, fra qualche secondo lo vedrete, continuate a seguire il video. Eccoci tornati, come vi spiegavo, portando in avanti la linguetta, viene portato in avanti anche tutto il blocco, che ha uno sviluppo molto interessante, in quanto è possibile inserire tutto quello che magari a noi dà fastidio all'interno del garage, quindi tanti piccoli oggetti che sono fastidiosi, concedetemi il termine, perché possono andare in giro e invece qua possono essere parzializzati. Ci tengo a precisare che i letti, come vi spiegavo prima, è possibile andare a ripiegare, come abbiamo detto. Questa parte è possibile escluderla in caso che noi magari vogliamo caricare delle bici internamente, quindi non abbiamo nessun obbligo nel tenerla, possiamo andarla a togliere, andarla a tenere in base a quello che noi dobbiamo fare in quel weekend, in quella vacanza. Parliamo invece del lato serbatoi, questa è la particolarità, come vedete poi in realtà lei si aggancia ed ecco che la linguetta è ritornata. Abbiamo la classica due bombole interne, abbiamo anche sul modello della Globe Car, l'abbiamo anche in caso di riscaldamento a gasolio, l'abbiamo come in questo caso riscaldamento a gas, quindi che voi scegliate diesel o gas, il vano bombole rimane totalmente invariato. Invece cambia qui la parte dello sviluppo del serbatoio, come vedete è più stretto e più lungo, Tesla secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda lo sviluppo del serbatoio, perché quando voi e se voi vorrete togliere questa parte centrale, come vedete internamente il garage è molto più spazioso, più che spazioso più largo, quindi automaticamente essendo più largo ha uno sviluppo migliore. Un armadio viene anche inserito nella parte avanti per far sì che voi dall'interno possiate tranquillamente raggiungerla e anche la parte del legno, la famosa ghigliottina può essere tolta, rido perché più volte vi ho chiesto come la chiamate voi, tavola di legno, la chiamo ghigliottina, può essere tolta e avere ancora più spazio ovviamente per raggiungere sia l'armadio, ma anche semplicemente di vivibilità, ne dico un'altra, avete la bici o avete lo scooter che è molto lungo, può uscire tranquillamente la ruota verso il corridoio, se invece avessero messo la doccia esterna, come in questo caso potrebbe potenzialmente dare più fastidio perché lo vediamo insieme, ovviamente avere uno sviluppo di lunghezza di un qualche accessorio che noi portiamo, andrebbe a finire nel reparto doccia. Kit terzo posto anche in questo caso, quindi ve l'ho fatto trovare dentro, già caricato sul 541 per farvi vedere che ci sta tranquillamente, io personalmente dico la verità su 541 con tetto a soffietto, il kit terzo posto non l'avrei per forza abbinato, valore aggiunto in caso che, ve lo spiego subito, in caso che voi non vogliate alzare il tetto, non siete sicuri che in quella zona il tetto vi sentite sicuri, non lo so, mille cose, o semplicemente avete freddo e volete dormire nel terzo posto nella dinette, questo è sicuramente un valore aggiunto, come sempre do il consiglio io, portatelo se ne avete bisogno, lasciatelo a casa se non ne avete bisogno. La disposizione del garage, del vano garage rimane totalmente invariata, sempre le due bombole, questo è il cric, come vedete anche qui l'acqua si può caricare sia dalla parte interna alzando il letto, ma lui nasce per caricarlo dalla parte esterna. Passiamo allo sviluppo della zona living, sia sul 540, sia invece sul 636, poi ritorniamo su ovviamente a vedere com'è il letto sul 636 senza il kit terzo posto, appunto per andare a vedere quanto andiamo a guadagnare. La living, qui ci tengo anche a fare un'altra precisazione, oggi è la giornata delle precisazioni, non è un reale confronto in realtà, perché il 541 classico, la dinette, è la metà di questa, in realtà la vediamo su questo veicolo, bella, larga, apribile, con un'ottima seduta, solo ed esclusivamente perché il bagno R sviluppa una migliore dinette. I sedili, sia su tutti i modelli, comunque van, è possibile con una piastra girevole girarli, in questo caso abbiamo la meccanica Citroen, di là abbiamo 140 cavalli, invece su Daitras abbiamo sempre 140 cavalli, ma su Fiat. Quindi vi spiegavo, non è proprio una reale differenza, in quanto appunto lo spazio che si ha su questo, lo spazio, il volume che si ha su questo 540, non è proprio uguale. Comunque andiamo a vedere, per quanto riguarda appunto un 636, dove va a migliorare la zona living, siamo passati dal concetto che il frigorifero è comunque uguale, sicuramente nella distanza, nell'apertura del van, abbiamo molta più comodità nel salire, molta più larghezza nel salire sul 636, molto meno invece per quanto riguarda il 540. Come vedete, sì, è indubbiamente più spazioso, insomma, tutto questo spazio di là non c'era, abbiamo un ottimo tavolo, questo tavolo vi spiego subito perché è sagomato sia su Detlefs che su anche POSL, in quanto girando i sedili o semplicemente appunto andando nella zona della cabina, come vedete questo spazio serve perché, o se no risulterebbe veramente difficoltoso, molto e veramente difficoltoso, passare nella zona cabina senza avere un taglio laterale. Anche questo in realtà è possibile poi aprire, la seduta tendenzialmente è poco più grande di quella di Detlefs, poi andiamo a ritrovare vari pertugi dove poter caricare sia per quanto riguarda questo cassetto, ma in realtà poi anche quest'altro. Io personalmente ci vedo molto molto bene, scarpe, ciabatte, tutto quello che serve per non sporcare il nostro van. Come vedete internamente mi ci butto, fighissimo, comodissimo, abbiamo tantissimo spazio internamente, è veramente una dimensione, beh io sono piccolino ma lui è davvero enorme, abbiamo una dimensione di letto enorme, importante, un letto, quello del lato conducente è più grande perché invece, il passeggero scusatemi, è più grande perché invece il lato conducente è più piccolo, perché lo sviluppo del bagno ci va a rubare qualcosina. Sulla lato destro mio in questo momento abbiamo la cucina, sul lato sinistro troviamo bagno e dinette, quindi ovviamente dobbiamo andare a ridurre, poi abbiamo detto che sul 540R lo sviluppo è in larghezza, qui in lunghezza, quindi abbiamo un letto leggermente più piccolo, sarebbe perfetto per il caso mio. Apriamo anche qui gli armadi e c'è tutto un materiale che viene fatto, una guaina che viene fatta apposta per un discorso di vibrazione durante la marcia per non darvi fastidio, tutte le predisposizioni sono comprese anche per quanto riguarda il giro d'aria su Detlefs, è presente nella stessa identica maniera che anche su POSMA, come vi ho spiegato nella intro, le due aziende vengono costruite in un unico stabilimento che è a Isni, appunto che è la made in Detlefs. Zona anche qui della capelliera presente, in questo caso come vi spiegavo è possibile fare un tetto sky up o in alternativa tenerlo più luminoso perché ovviamente il tetto va a togliere due barra tre oblò, il primo è quello del bagno quindi devi per forza avere la finestra per un ricircolo dell'aria, il secondo è quello della zona living, il terzo su alcuni modelli è quello della zona notte. Fiat serie 9, abbiamo l'ultimissimo Fiat che è uscito, quindi abbiamo una cabina molto bella, a me piace sia internamente che esternamente, Oscuranti Remis presenti sia per quanto riguarda il Detlefs sia per quanto riguarda anche Globe Car o in alternativa POSL. Fendinebbia presenti perché Citroen li inserisce invece per il Fiat sono un optional e come tutte le cose ultimamente del Fiat si fa veramente fatica a reperirle. Abbiamo in questo caso le finestre che escono dalla cornice, invece di là vi faccio vedere queste di un Vantourer ma tendenzialmente sono uguali, abbiamo come vedete le finestre che sono incorniciate. Detlefs nella parte posteriore mantiene sempre le S7, io sono amante invece nella parte posteriore di queste in quanto in caso di pioggia o voglio, io le usavo spesso anche in realtà per stendere, le trovo veramente molto comode. Torno all'inizio con un tetto SCA per due persone, si dorme appunto in lunghezza, apribile e impermeabile nei tre punti, quindi i due laterali e il frontale. Questo è il modello Globe Car 540 con l'essenza di legno, a me piace molto, invece ora rivediamo il Detlefs che è esteticamente favoloso, addirittura riflette la scritta Detlefs, ma io lo dico sempre questa è fortuna perché loro hanno i colori dell'azienda che si sposano perfetti sui van, quindi Detlefs insieme a pochissimi brand è un van che anche bianco è favoloso, questo invece è l'interno di Detlefs, entrambi gli interni, no bugia, l'interno delle Globe Car si può fare anche in elegance, personalmente mi piace più questa versione qua che costa anche meno, invece Detlefs non ha nessuna possibilità di cambiare la sua bellissima e senza legno. Questo per quanto riguarda invece Detlefs cucina che ovviamente sui cassetti qui è tutto soft lock nella zona di Detlefs è sicuramente più comoda. È possibile anche su questo modello, come sull'altro, come vi ho detto prima, fare il terzo posto in dinette ed è omologato per quattro persone, quindi un veicolo davvero eccezionale, comodo, sicuramente il letto gemello va a guadagnare molto per la nostra comodità e sicuramente il 540 va a guadagnare molto per la nostra praticità. Sceglietelo voi il modello perfetto, io sono qui ad assistervi e vi ringrazio per aver visto tutto il video e vi auguro una buona giornata e anche una buona Pasqua. Ciao a tutti!